La chiesa di San Michele a Hildenseim, retta nel 1010 sotto la guida di Berno Ardo, rappresenta un capolavoro dell'architettura romanica, fondendo elementi carolingi e ottoniani con innovazioni stilistiche che hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'arte. Costruita durante il regno degli ultimi sovrani della dinastia ottoniana del sacro romano impero, la chiesa incarna l'essenza dello storicismo romanico e della sua architettura conservatrice. San Michele è celebre per la sua pianta simmetrica con doppi abside, un richiamo alla tradizione ecclesiastica dell'epoca. La disposizione degli spazi interni è imponente, con archi che si elevano dall'aula fino al soffitto, creando un dialogo armonioso con le arcate laterali e i grandi finestroni del cleristorio. All'esterno la chiesa si distingue per le sue sei torri, due torri quadrate robuste sorgono all'intersezione con la navata, mentre quattro torri a guida più eleganti e meno sicce dominano i transetti gemelli. Questa composizione di torri e archi a tutto sesto rimanda a strutture architettoniche antecedenti, pur influenzando le costruzioni successive nel tardo undicesimo e dodicesimo secolo. Devastata dai bombardamenti alleati nel 1945, San Michele è stata fedelmente ricostruita nel 1957. Questo restauro ha permesso di reintegrare molti elementi originali che erano stati salvati e nascosti durante la guerra, conservando così l'integrità storica e artistica della chiesa. I capitelli della navata, scolpiti da massicci blocchi di pietra, sono tutti diversi tra loro ma mantengono proporzioni uniformi, mostrando variazioni su motivi floreali che ricordano l'antico capitello corinzio. Questa ricchezza decorativa è una testimonianza del livello di maestria raggiunto dagli artigiani dell'epoca. Il soffitto dipinto della chiesa è uno dei pochi esempi medievali sopravvissuti, illustrando l'albero di Jess che traccia la genealogia di Cristo da Adamo ed Eva attraverso i re dell'antico testamento. Questo dipinto non solo riafferma le radici bibliche di Cristo e il suo ruolo messianico ma anche valorizza l'arte visiva come mezzo di educazione religiosa e culturale. La chiesa di San Michele a Idesheim non è solo un luogo di culto ma anche un monumento storico che riflette le tecniche architettoniche e artistiche del suo tempo, la sua struttura, i dettagli decorativi e la sua storia di distruzione e restauro offrono una finestra preziosa sul passato e sull'evoluzione dell'arte romanica. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!